Buonasera a tutti, dal vostro Riccardo Galatioto, ben comodi, ben arrivati su Video Sicilia a questo spazio di discorsi d'autore, speciale elezioni regionali 2017, ricordo che si vota soltanto di un'unica battuta, domenica 5 novembre dalle ore 7 alle ore 22. Questa sera ospite graditissima, ci tengo a dirlo, l'onorevole Valentina Palmeri. Buonasera onorevole. Grazie, buonasera. Come stiamo intanto? Scusate la voce perché esco e sono ancora un po' influenzata, quindi saluto i telespettatori da casa e ringrazio te per questo invito gradito. Grazie a lei, poteva farne a meno oggi di accettare l'invito perché le condizioni di salute non sono ottimali, però quando è così uno non ha di che ringraziare perché ha mantenuto fede all'impegno. Io ricordo, onorevole, mi piace molto a me andare a braccio, non ho domande precotte, preconfezionate, formulate perché se di successo si può parlare di questa trasmissione è la spontaneità che i telespettatori carpiscono. Cinque anni fa, la stessa sera quando il Movimento 5 Stelle riuscì ad avere i propri rappresentanti all'Assemblea regionale siciliana, pensate un po' che riuscire a intervistare l'onorevole Valentina Palmeri era qualcosa di inimmaginabile, difficile, difficile. Chi lo doveva dire è che io questa sera dovevo ospitare l'onorevole Palmeri qui nel salottino di discorsi d'autore. Perché è stato difficile? Me lo dica lei. Allora, innanzitutto, cinque anni fa noi da attivisti, insomma, ci siamo imbarcati in questa avventura perché fortemente motivati dal cercare di cambiare la politica che aveva completamente smarrito il suo obiettivo per cui era nata e i giovani che se ne andavano sempre di più dalla Sicilia, quindi noi avevamo veramente voglia di metterci in gioco, però fino a quando ci siamo candidati non avevamo una vera consapevolezza del fatto che saremmo entrati dentro le istituzioni. Poi man mano avevamo la volontà di far entrare i cosiddetti virus buoni dentro le istituzioni, però non numericamente così intanto. Io che non capivo perché se la tiravano il termine è questo e poi studiando il Movimento di Cinque Stelle ho capito che non era un po' sentirsi primi della classe, era perché non se l'aspettavano di riuscire ad avere quei, eravate 15 in rappresentanza in prima battuta all'Ars, non se l'aspettavano nemmeno loro. Ovviamente man mano che la campagna elettorale andava avanti acquisivamo la consapevolezza di quello che sarebbe stato, ossia che saremmo andati dentro l'Assemblea regionale siciliana sicuramente in tanti. Quindi forse all'inizio non eravamo veramente attrezzati dal punto di vista psicologico a questa cosa, a passare dal ruolo di attivisti al ruolo di deputati regionali, però poi mi sono assolutamente assunta la mia responsabilità, tutti i sacrifici che sarebbero venuti successivamente, che avremmo dovuto assumerci assolutamente e poi visto il risultato che c'è stato appunto nel 2012 mi sono sentita onorata di poter portare la voce delle persone dentro le istituzioni, di poter portare un contributo nel migliorare questa politica che era fatta di compromessi, una politica sporca, ma soprattutto una politica lontana dai cittadini. Ecco, in questo noi sicuramente abbiamo cercato di dare il massimo, di cercare di normalizzare e rendere più vicina alle persone questa politica. Lei in quelle ore dalla classica mamma alcamese, giovane mamma alcamese, si è trovata in poche ore a deputata regionale, quindi il passaggio per uno che non ha fatto mai politica ma è stato un attivista è un po' traumatico. Adesso cosa mi aspetterà? E' questo quello che vi ponevate come quesito. Sì, sicuramente siamo passati da una quotidianità rassicurante fatta di lavoro, di famiglia, di amici a una sicuramente una situazione completamente diversa che di rassicurante e di quotidianità non assolutamente niente, però come dicevo poi siamo stati consapevoli di quello a cui andavamo incontro, l'abbiamo preso con entusiasmo, con passione perché nella consapevolezza di essere dentro un cambiamento grandissimo ed effettivamente la politica oggi magari non effettivamente quella rivoluzione non c'è stata ma ci sono stati dei grandi cambiamenti, anche partiti hanno cominciato un po' a cambiare il loro linguaggio. Possiamo dire che voi avete portato insieme all'Ars una ventata di entusiasmo, un qualcosa di nuovo, di verve che non c'era, possiamo dirlo? Sì, sicuramente come dicevo anche partiti hanno cominciato un po' a parlare con un linguaggio che un po' ci, non voglio dire che ci scopiazzano però un pochettino nessuno deve rimanere indietro, insomma tutti questi termini che per noi non sono soltanto degli slogan, sono un qualcosa di concreto ecco, perché riteniamo che non bisogna promettere o dire a parole, insomma denominare una serie di slogan vuoti ma bisogna innanzitutto il politico mettere in atto in prima persona quello che dice, noi ad esempio parliamo di tagli ai costi della politica, taglio degli stipendi ma prima di dirlo lo facciamo, anche se non siamo al governo abbiamo sempre fatto, io ad esempio mi sono tagliata circa 255 mila euro così come hanno fatto i miei colleghi, 255 mila euro? Sì, sì, con questi soldi abbiamo finanziato una serie di attività come il microcredito, una serie di iniziative, boom, polmoni urbani, la trazzera, abbiamo ricomprato la casa a un signore che si era a Sicilia, quanto ne hanno detto su quella trazzera in quelle settimane in quei mesi che ha permesso sì che non venisse tagliata in due la Sicilia perché si trattava di questo in quelle settimane, si ricorda? Assolutamente sì, noi abbiamo ricucito la Sicilia in un momento in cui veramente i siciliani affrontavano ogni giorno un disagio nello spostarsi da un punto all'altro della Sicilia inimmaginabile, gli stessi onorevoli che ci criticavano percorrevano quotidianamente quella strada con le loro auto blu, quindi comunque evidentemente sarà stata apprezzata questa strada che comunque non ha risolto i problemi infrastrutturali della Sicilia, ma siamo sempre lì, come l'acquisto della casa Gorascio è un simbolo per il modello a cui noi aspiriamo, mettere al centro una politica più vicina alle esigenze dei cittadini. Acquisto di casa Gorascio, casa Gorascio ringrazia, possiamo dire con quello che abbiamo assistito con le croniche di questi giorni, molto riconoscente, ma questa è un'altra storia. Che cinque anni sono stati questi di governo Crocetta che vi ha visti davvero combattere fra gli scanni di Saladerco? Allora, sicuramente il primo impatto che ho vissuto, io ero in commissione ambiente i primi tre anni e ora da un anno e mezzo, quasi due anni sono state in commissione agricoltura. Il primo impatto è stato proprio il notare quanto questi politici, soprattutto Crocetta, del governo Crocetta fosse un governo assolutamente demagogico. Io ad esempio ho seguito molto da vicino il tema dell'acqua, dell'acqua pubblica, della riforma idrica, ho presieduto la sottocommissione del servizio idrico. Abbiamo vissuto veramente due anni di battaglie aspre in commissione perché per questo governo l'acqua pubblica era uno slogan, una parola per riempire le prime pagine del giornale, ma poi non c'era effettivamente una vera volontà di risolvere il problema idrico a livello regionale che poi si ripercuote nei comuni perché effettivamente i comuni oggi, lo vediamo ad Alcamo, possono fare ma fino a un certo punto perché è un problema che se non si risolve a livello regionale apportando le giuste economie di scala che permettono di finanziare le grandi opere infrastrutturali dell'acqua, le reti idriche, le dighe, tutto quello che servirà a gestire l'acqua e a risparmiare l'acqua, si potrà fare poco perché bisogna riorganizzare il sistema, quello che effettivamente noi abbiamo trovato un muro in questa cosa, risolvere i problemi alla fonte, quindi ok acqua pubblica però non è possibile che ancora ci sono dei deputati che si gestiscono l'acqua come un bene proprio, dei sindaci che fanno questo. Quindi il problema dell'acqua non si è voluto risolvere perché è stato gestito in maniera privatistica, territoriale. Quindi l'acqua non può essere gestita a livello di provincia, a livello di comune come ambito geografico. E questo è soltanto un aspetto quello dell'acqua, ma io che giro per tutta la Sicilia nella nostra tv e ad ambito regionale non è una tv locale, girando per la Sicilia vedevo la viabilità per esempio, strade dissestate, la vegetazione spontanea che invadeva la sede stradale, cunette lasciate proprio all'abbandono, era una Sicilia, è una Sicilia perché sembra un tempo del verbo inappropriato, è una Sicilia che ci stanno consegnando, che era la Sicilia che loro non ci prospettavano, è giusto oppure sbaglio? Assolutamente sì, noi abbiamo visto fare più gli interessi di grosse multinazionali con l'energia, l'abbiamo visto con questa crocetta, sin dall'inizio con le battaglie che abbiamo fatto per le energie rinnovabili, contro le trivellazioni petrolifere, offshore, abbiamo portato per la prima volta al Parlamento regionale, noi che non eravamo dei politici di professione, abbiamo portato dei temi che non erano mai stati trattati al Parlamento regionale, come quello delle trivellazioni petrolifere, offshore, è stata firmata pure una mia mozione sulle trivellazioni onshore, che sarebbero quelle su terra, purtroppo però questo governo non ha portato avanti gli atti che poi venivano approvati nell'Assemblea regionale siciliana, ecco questo è veramente un dato politico di inefficienza, anche poi di non portare avanti le stanze della... Io ricordo Crocetta in campagna elettorale, uno dei tanti slogan che lo accompagnava di piazza in piazza, addirittura la rete c'è un video che è ormai virale, elimineremo la manciuglia, non faremo macelleria sociale, toglieremo finalmente il precariato, cosa non è stato, hanno una situazione che permane la stessa, il precariato è ancora vivo, vegeto e chissà per quanto ancora andrà a lungo. Come hanno potuto pensare di proporre un crocetto? Ma non lo so, la mia ipotesi è come dicevo la vicinanza a certi poteri forti come Confindustria, come ad esempio nell'ambito delle energie rinnovabili, noi abbiamo visto determinate blocchi, muri nel portare avanti delle stanze, quindi anche stanze privatistiche, in questo senso legate appunto all'acqua pubblica intesa come non veramente un'acqua bene comune a tutela di tutti i cittadini, quindi abbiamo visto una vicinanza da parte di questo Presidente ad alcuni ambienti che volevano mantenere gli interessi privatistici, evidentemente avrà avuto degli appoggi importanti legati appunto a questa volontà di non pubblicizzare l'acqua, di non puntare veramente alle energie rinnovabili, questo all'inizio, poi dopo non soltanto a questi ambienti, abbiamo notato appunto anche sul precariato effettivamente che non ha assolutamente cambiato niente, si è continuato a promettere, trattando queste persone semplicemente rimandandoli di anno in anno, di mese in mese, le manifestazioni erano quotidiane, con i forestali l'ultima veramente offesa è stata quella delle 80 euro, quando noi abbiamo sempre ribadito che queste persone devono essere messe nelle condizioni di lavorare seriamente per la Sicilia tutto l'anno e non il ritardo, non è possibile ad esempio vincolare i forestali al bilancio, alle finanziarie che sappiamo che subiscono sempre dei ritardi, quindi serve un fondo come noi abbiamo scritto con i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, abbiamo scritto un programma che va in questa direzione, cercare di svincolare questi fondi. Ma voi ce la vedete contro i forestali oppure no? Perché intanto appare questa notizia, Movimento 5 Stelle contro i forestali, lo dica davanti alle telecamere. No, assolutamente no, infatti come stavo dicendo, noi con i miei colleghi abbiamo appunto redatto un programma che è volto alla valorizzazione del personale, volto alla valorizzazione e soprattutto alla prevenzione degli incendi, che poi è assolutamente direttamente proporzionale alla tutela, alla valorizzazione delle persone. E del distesto idrogeologico credo pure. Quindi svincolare questi fondi dalle finanziarie perché questi fondi devono avere una loro programmazione. Poi queste persone non sono state messe mai nelle condizioni di lavorare perché non esiste un piano, il piano antingegno non è stato approvato in Sicilia negli ultimi due anni, è vergognoso. Noi abbiamo fatto anche degli esposti quest'anno. Quindi le persone devono essere valorizzate, devono essere messe nelle condizioni di lavorare tutto l'anno, non soltanto gli ultimi 15 giorni apprese in giro tanto per utilizzare quei soldi. C'è molto da fare. Per tutte le categorie professionali sicuramente bisogna valorizzare le persone, valorizzare il lavoro e non puntare, diciamo, agganciare le persone per fini elettorali, puntare alla pancia come è stato fatto fino adesso. Soprattutto bisogna puntare a piani di sviluppo della nostra regione. A me sembra molto che quando si è candidato Crocetta hanno detto che sicuramente sarebbe andata diversa dalle cinque anni di Raffaele Lombardo, mentre così non è stato. Parecchi che hanno proposto Crocetta lo hanno abbandonato a pochi mesi dalle elezioni regionali. Questo volta cabana. La gente lo percepisce, secondo me sì, è chiaro all'elettore. Secondo lei? Mi auguro, perché è un'offesa agli elettori. L'ultima seduta d'aula abbiamo sorriso un attimino nell'elencazione dei cambi di casacca che ha enumerato il presidente Ardizzone. Dei cambi di casacca veramente numerosissimi. Significa tradire la fiducia degli elettori, perché tu non voti soltanto quella persona, tu voti un insieme di principi ideali in teoria, se esistono più nei partiti, forse sono diventate delle parole vuote. E quindi significa tradire l'elettore. Cioè se quella persona dopo 15 giorni cambia casacca, come effettivamente no. Cioè soltanto per questo secondo me già l'elettore dovrebbe avere uno strumento di valutazione importante. I elettori secondo me vengono usati come dei taxi per raggiungere dei fini personali. Ti candidi con una formazione, poi in corso d'opera ne cambi due, tre, quattro, per poi ritrovarti un elettore ad una prossima chiamata alle urne in un colore politico, in un ambiente decisamente che tu combattevi cinque anni prima. Prendiamoci in giro, molti che cambiano casacca gli ultimi mesi evidentemente, poi devono perché devono giustificare il loro appoggio al governo, quando in realtà tu per quattro anni hai appoggiato questo governo e poi cambi gli ultimi mesi. Mi dici che il crocetta non è buono. Una pesa in giro. Esatto, me lo dici due mesi prima che il crocetta non è buono, ma dove sei stato, dove hai vissuto questi cinque anni? Lasciamo stare questa poi un'altra storia. Ovviamente sempre con massimo il rispetto per le persone, però sicuramente il modus operando dal punto di vista politico non credo che sia rispettoso verso le persone. L'ultima domanda della prima parte e poi ci avviamo alla pagina pubblicitaria. Avete paura come Movimento 5 Stelle, paura non a livello personale, parlo sempre politicamente, avete paura di un astensionismo, di un corpo elettorale che possa rimanere a casa e non esprimere nessun consenso? Sì, sicuramente quello è il maggior nemico. Per tutti parla. Sì, 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 quello è sicuramente il maggiore ostacolo che dobbiamo contrastare, quindi puntare appunto a contrastare questo astensionismo, parlare con le persone, fargli capire, comprendere l'importanza di esprimere un voto. Questo è sicuramente importantissimo. Anche perché, onorevole, io giro, come l'ho detto poco, anzi, parecchia gente mi esterna alla loro ferma volontà di non recarsi al voto il 5 novembre. È errato, dovete andare al voto. È anche una questione di dignità, non soltanto verso voi stessi, ma una questione di dignità e rispetto verso quanti negli anni precedenti, nei decenni precedenti, ha lasciato la propria vita, ha messo a repentaglio la propria esistenza per riuscire ad avere il diritto al voto. Pensate che parecchi anni or sono non era a tutti concesso il voto. Quindi è una questione di dignità e rispetto verso quanti non ci sono più. Abbiamo questo strumento importantissimo, democratico, che dobbiamo assolutamente far valere e non sprecare. Quindi la penna è il nostro potere enorme, andate alle urne. Mi piace molto sensibilizzare perché viene facile dimenticare chi negli anni precedenti davvero ha combattuto degli ideali, quando non era concesso a tutti l'espressione del voto. Quindi dire tanto su tutti gli stessi, mi piace anche intercollare l'idea, tanto su tutti gli stessi non cambia mai nulla. No, uscite, votate per chi volete, ma andate al voto. Che ne pensate di questo appello? Perché gli elettori, a volte, presi dallo scoraggiamento, magari si lasciano andare. Che ne pensate? Sono assolutamente d'accordo. Noi siciliani, italiani, abbiamo sofferto molto come popolo, abbiamo visto molte dominazioni, abbiamo conosciuto dei regimi sicuramente non democratici, quindi sicuramente dobbiamo andare in questa direzione e mantenere questo livello di democrazia nel nostro paese, anzi migliorarla. Noi in questo momento siamo come forza politica, forza l'alternativa agli estremismi, quindi non voglio essere catastrofista dire che è l'ultima opportunità che abbiamo per cambiare le sorti di questo paese, però sicuramente vedendo certe dinamiche che ci sono a livello europeo, a livello soprattutto europeo, credo che siamo a un momento di svolta, quindi oggi è importantissimo ancora più di qualche anno fa forse esercitare il diritto di voto che ha un valore democratico importantissimo per il nostro futuro, ma soprattutto per le generazioni a venire. Io sono mamma di due bambini, questo oggi, la mia presenza qui, insomma, nelle istituzioni, il cercare di rimettermi di nuovo in gioco è anche per loro, per il loro futuro. Ho visto quanti giovani hanno abbandonato, quanti miei coetane hanno abbandonato questa terra e non vorrei mai che i miei figli un giorno dovessero andarsene, non per loro scelta. Ecco, questo non me lo perdonerei mai, il fatto che io non ho fatto nulla per evitare questo, questo non me lo perdonerei mai. E se oggi sono qui e se dico andate a votare e soprattutto per loro, per i nostri figli, per questa terra che merita tanto, noi l'abbiamo purtroppo forse non valorizzata secondo le sue infinite vocazioni. Quindi facciamolo per le generazioni soprattutto giovani, per la nostra terra. Bello questo pensiero ai giovani, attuali, alle future generazioni. Non cambiate canale, vi aspetto qui. Spazio alla pubblicità. Seconda parte di discorsi d'autore, sempre Riccardo Colatioto, speciale elezioni regionali 2017. Ricordo che si voterà in una sola ed unica battuta domenica 5 novembre, onorevole. Giusto ricordarlo, dalle ore 7 alle ore 22, tarda notte, notte fonda, si saprà già da chi sarà composto il futuro Parlamento regionale siciliano, l'ARS, la famosa Assemblea, è chi sarà il futuro governatore che ci traghetterà per quanto riguarda i prossimi cinque anni nella nostra meravigliosa terra di Sicilia. Ospite con noi e con voi, soprattutto con voi, l'onorevole Valentina Palmeri, parlamentare uscente del Movimento 5 Stelle. Vi hanno chiamato in tutti i modi, pentastellati, grillini, 5 Stelle. Ecco, non avevano più quale termine usare per classificarvi. Ma quanto è stato utile farvi conoscere. Sì, vabbè, è anche un modo, diciamo, per farsi sentire. Se puoi essere chiamati grillini, essere appellati così, proprio mandare dei messaggi ai cittadini, quella poi è la cosa più importante. Credo che i cittadini sappiano fare giusti distingue, vedere, distinguere chi effettivamente è lì perché non sta prendendo quell'incarico come una professione, come una sistemazione per la vita. Poi, ripeto, secondo me questo incarico è come qualcosa di non per forza ci devo essere. Uno fa la competizione, se riesce a vincere è eletto, altrimenti continua la vita normale. Assolutamente sì, come dicevo io avevo un lavoro, avevo una mia vita tranquilla e soprattutto ero un attivista e ho voluto, ecco, mettermi in gioco in questa cosa per cambiare fortemente, per cercare di dare un contributo a cambiare questa società. Da madre, ora, ancora a maggior ragione, ecco, sono ancora più consapevole dei cambiamenti urgenti che sono necessari per questa terra, per cambiare questa politica che è sempre più, diciamo, un insieme, un connubio di potere politico, insomma, con poteri anche di altro genere. L'ex procuratore Viola è stato chiaro nel definire la tipologia di potere che c'è nella nostra provincia di Trapani, soprattutto c'è anche una mafia, non possiamo negarlo, che opera forse in maniera diversa rispetto che in provincia di Trapani. questa opera in maniera forse un po' più sottotraccia, un po' più dialoga e convince gli imprenditori con cui viene in contatto, con il potere massonico, con il potere politico, con il potere imprenditoriale, c'è una rete, una ramificazione che opera in maniera tranquilla. Quindi sicuramente tutto questo si nota, si respira e si vede. In che cosa si vede? Ma semplicemente nel fatto che non c'è lavoro, nonostante avremmo delle vocazioni infinite, una terra veramente, soprattutto, sono un po' forse, non lo so in questo momento, guardo il mio territorio, ma effettivamente dal punto di vista turistico, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista imprenditoriale, a noi non manca assolutamente nulla, non si capisce come va effettivamente questa emorragia continua di giovani, di competenze, di intelligenze, non è uguali. Quindi evidentemente questa mafia che opera in maniera così particolare, sottotraccia, ha un ruolo più importante di quello che noi possiamo avere magari consapevolezza e immaginare. Io sono d'accordo giornalisticamente, naturalmente parlando, con quanto affermato giorni scorsi da Di Maio, ossia che voi in periodi particolari della storia della patria, della nazione, siete stati davvero quella valvola di sfogo che facesse sì che non si scendesse per le piazze a quasi associare una guerra civile. Abbiamo vissuto davvero anni molto, ma molto critici, la famosa spending review, non si vedeva la luce in fondo al tunnel, anni davvero bui con le economie molto traballanti. Siete riusciti un po' a intercettare quel malcontento popolare della base dei lavoratori che quotidianamente si vedono, si vedevano un po' traditi da chi avevano premiato con il loro voto. Che ne pensa? Sì, noi parliamo sempre di rivoluzione gentile, nel senso che il messaggio che noi diamo ai cittadini, ai lavoratori, alle varie categorie personali e soprattutto dobbiamo essere noi in prima persona, entrare nelle istituzioni a cambiare, ad attivarci per cambiare questa società. Non possiamo più delegare, permetterci di delegare al politico di turno, al partito di turno, il nostro futuro. Sicuramente sì, ci sono dei meccanismi che ormai sono un po' impazziti e veramente dobbiamo riunirci tutti di ritornare a diventare comunità per cambiare fortemente questo paese. Nei comuni dove amministriamo, ad esempio, stiamo cercando, ecco, con mille difficoltà di far ritrovare un po' di normalità perché ci hanno consegnato dei comuni veramente devastati, dei comuni che erano spesso dei feudi. Quindi ritornare alla normalità in questi comuni è difficile, c'è un freno e spesso i cittadini magari non capiscono o non comprendono perché questo cambiamento non è immediato. Ecco, quello che noi diciamo ai cittadini è che il cambiamento richiede i suoi tempi, richiede l'attivazione in prima persona di tutti noi. La gente sembra quasi che vi vota, però vuole il cambiamento, vi vota oggi e domani vuole il cambiamento. Sì, questo sicuramente lo abbiamo notato. L'avete notato? L'abbiamo notato e io sicuramente quello che ho notato è negli otto comuni che amministriamo in Sicilia che c'è un filo conduttore in tutti questi comuni. È sicuramente quello di un'amministrazione che non cerca le prime pagine del giornale ma sicuramente vuole mettere al centro i temi prioritari, principali per i cittadini. L'acqua, i rifiuti, cioè ritornare a forse magari qualche fiera, qualche sagra in meno, però la priorità dei cittadini, quali sono? Tagli agli sprechi, portare dei servizi normali, mettere al centro le esigenze prioritarie dei cittadini con grande dignità, con grande sacrificio quotidiano e giornaliero. Quindi iniziare a pianificare il futuro dei cittadini, andare a pianificare i servizi primari. Onorevole, ecco la domanda scomoda, a me piace farla anche perché il giornalista è chiamato anche a questo, a temere di un imbonitore, non lo sono mai stato. Ecco, non è domanda, non è uno spauracchio pensare che l'impegno come Movimento 5 Stelle possa essere visto con suo, naturalmente, possa essere visto con le difficoltà che sta incontrando l'amministrazione surdi ad Alcamo, nel senso che con tutta la buona volontà, con tutto il suo impegno in questi cinque anni, però non può essere visto dall'elettore come si ha avuto difficoltà, non sta rispondendo subito alle nostre aspettative, è un sindaco del Movimento 5 Stelle, quindi di riflesso ha operato e opererà un parlamentare all'Ars. Non c'è questo spauracchio in lei? Ma sicuramente, io credo che i cittadini sappiano fare i giusti distingue, i cittadini ormai sono, ognuno di noi, insomma, abbiamo vissuto degli anni pesanti, quindi sappiamo fare i giusti distingue in media, ovviamente, però mi rendo anche conto che c'è una forte difficoltà quotidiana, anche una difficoltà a raggiungere anche il fine mese, c'è un problema economico pesante che fa perdere la lucidità, la calma e la serenità alle persone, quindi io posso comprendere benissimo le difficoltà e tutto quello che arriva. Che sai, quello che si dice in diolovire, no? Alcamo, ad esempio, sul discorso dell'acqua, magari sì, questo è un tema che potrebbe, come dire, far pensare che il Movimento 5 Stelle non è in grado di amministrare. Ecco, io su questo voglio dire come la penso, sicuramente, anche per la premessa che ho fatta all'inizio, il problema dell'acqua è un problema che si può risolvere in maniera completa, in maniera totale, soprattutto a livello regionale, cioè ci vuole un ruolo importante della regione nella riorganizzazione, perché l'acqua deve essere gestita per bacini idrogeografici. Un comune non può avere da solo i mezzi, non ci sono quelle economie di scala che gli permettono, attraverso la tariffa, di andare a sistemare le reti idriche, di andare a sistemare i grossi invasi, di andare a sistemare, a mettere a norma i nostri depuratori. Cioè è impensabile e questo qualsiasi cittadino che ha un minimo di conoscenza, competenza tecnica lo capisce, quindi è un problema soprattutto regionale. E quindi detto questo, a livello comunale io ho notato che per la prima volta, anzi, l'amministrazione di Alca, l'amministrazione di 5 Stelle Surdi ha fatto delle cose che effettivamente non si erano mai fatte. Ad esempio il discorso di togliere l'acqua non potabile dei pozzi dal ciclo del servizio idrico integrato destinato agli usi umani. Questo è una cosa, un atto di amore, di rispetto verso i cittadini che nessun amministratore in passato ha mai avuto. Perché non è una cosa, senza consare ovviamente gli aspetti legati all'osservanza della legalità. Perché si è andato a regolamentare un settore che effettivamente non era minimamente regolamentato e non si operava nella legalità, nella trasparenza. Che sa, onorevole, viene facile chi raccoglie come me gli umori per strada facendo questo lavoro, ma facendo vita sociale. Non sono capaci di amministrare, che boh di 5 Stelle? Io per la prima volta ho visto invece la possibilità di avere la certezza che dal mio rubinetto esca un'acqua potabile, un'acqua che non mi provoca allergie quando mi lavo e cose di questo genere. Questa non è una cosa da poco. Certo, è vero che questo magari ha ridotto gli apporti complessivi che arrivano nelle abitazioni. Però sicuramente si sta lavorando ad esempio per alcune acque di questi pozzi, le acque non potabili, potrebbero essere destinate ad usi non potabili. Tradotto? Alcune aziende. Io non mi spiego come mai, nel momento in cui l'amministrazione ha fatto dei band per cercare queste acque di questi pozzi che potevano essere messe a disposizione ad esempio di aziende, di imprese che avevano bisogno di acque non potabili, lì praticamente si è alzato un muro. Tradotto in sintesi, onorevole mi pare di cogliere per fare una sintesi, per il cambiamento ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ci vuole una cooperazione tra, è un buon governo regionale, è una cooperazione tra una regione che parli con i comuni. A livello comunale dicevo con i mezzi, scarsi mezzi che ha un'amministrazione, io ho visto dei passi che non erano mai stati fatti e io credo che il cittadino questo lo percepisce, lo può percepire. Poi mi auguro effettivamente che è un problema, non avere l'acqua a caso, averla in maniera limitata è veramente un problema pesante. Io non posso che sentirmi, anche io da cittadina abbiamo avuto lo stesso problema la mia famiglia, è un problema che viviamo tutti sulla nostra valle, non posso dire che è un problema che si è risolto, però bisogna essere con i piedi partare. Cioè, abbiamo nella parte finale di questa trasmissione, abbiamo sforato ma sicuramente lo abbiamo fatto a beneficio dei nostri telespettatori, la cosa o le cose predominanti per le quali va fiera di essersi spesa come parlamentare all'Arsi in questi cinque anni. Me ne dica due. Allora, sicuramente le battaglie che abbiamo fatto sull'acqua pubblica sono state importanti, hanno lasciato un segno, anche se poi la legge è stata un po' modificata in aula, è stata un po' stravolta, è stata parzialmente impugnata, però abbiamo fatto entrare dei principi delle battaglie importanti che mi auguro veramente di portare, di avere la possibilità di portare avanti prossimamente perché dal servizio idrico è fondamentale, dipende anche l'agricoltura. La seconda? L'energia, non voglio citare le battaglie che abbiamo fatto a livello territoriale e locale perché mi perderei tra sanità, strada, difesa della costa, al cavo marino, abbiamo fatto veramente tantissime interrogazioni, però sicuramente l'acqua pubblica, le energie rinnovabili, abbiamo fatto delle battaglie, delle denunce importantissime, una denuncia che ha modificato anche il prezziario del fotovoltaico che era gonfiato di 300 volte, una battaglia su prezziari Avremmo potuto fare un'altra trasmissione? Il piano agricolo è un lavoro importante di cui sono fiera, su cui ho lavorato molto, mi sono impegnata e che spero di portare avanti, insieme ai miei colleghi, insieme al futuro Assessore. Sicuramente un'altra trasmissione, un altro taglio che avremmo potuto dare era quello di venire qui, fare il decalogo di tutti i suoi impegni in questi cinque anni, ma sarebbe come recitare la poesia natalizia che ogni candidato uscente e ricandidato potrebbe fare o avrebbe potuto fare. Non è questo il taglio che ho scelto di dare, mi è piaciuto questa sera fare capire umanamente l'onorevole Valentina Palmeri come la pensa su certi punti e l'impegno che ha avuto in questi cinque anni, senza toccare il decalogo delle sue battaglie, del suo impegno. Ecco, lei è stata l'artefice di uscendoci di un progetto, perché è questa la fase, avete presentato un progetto che è quello di creare il Parco Terre degli Elimi o Elimi a secondo come qualcuno preferisce accentare la I. Me ne parli in dieci secondi. Sì, il Parco Terre degli Elimi è un'idea, un progetto che vuole racchiudere, valorizzare tutti gli elementi che ci sono nel nostro territorio, dal comune di San Vitolo Capo al comune di Alca, questi comuni passando per Castellammare e Calatavimi-Seggesta, racchiudere tutte le vocazioni dall'ambiente all'agricoltura, al mare, alla pesca, alle acque calde, le terme, le archeologie, abbiamo appunto un parco archeologico, il Parco di Seggesta, abbiamo tantissimo in questo territorio, quindi tutte queste valenze devono essere fra loro collegate in un progetto univoco che possa anche richiamare fondi comunitari, il Parco Elimi è questo, è un parco naturalistico ma non solo, un parco che vuole riconnettere tutto quello che di bello c'è nel nostro territorio per richiamare turismo e fondi comunitari. Onorevole, noi auguriamo il successo a qualsiasi candidato che prende e si accomoda lì in questa poltroncina. Nel caso di una elezione, di una rielezione, per cosa vorrà essere ricordata Valentina Palmeri dal punto di vista umano e l'onorevole Valentina Palmeri un domani da questa porzione di Sicilia, per cosa vorrà essere ricordata? Sicuramente forse le battaglie a difesa dell'ambiente mi hanno connotato un po' di più tutto quello che è stato il mio impegno in questi cinque anni, ma anche il cercare di riportare una dimensione più umana a questa politica, di pensare al benessere dei nostri figli, alla solubilità del nostro ambiente e quindi del nostro cibo. Cuffaro ha detto a Nello Musumeci che parecchi dei suoi candidati nelle liste sono di provenienza cuffariana e lombardiana, che ne pensi? La verità, Musumeci, rispetto per la persona perché devo dire che abbiamo avuto un rapporto assolutamente tranquillo in questi anni, però ahimè Musumeci non è che lo specchietto delle allodole come Giancarlo Cancellera ha detto in questi giorni di chi c'è dietro di lui e come del resto è stato Crocetta, Rosario Crocetta per tutti quelli che poi hanno deciso al posto suo, gli assessori che hanno preso le scelte più importanti. Io ricordo una battuta di Nello Musumeci in quel di Termini Merese, meglio 10.000 voti in meno che perdere la propria dignità Nello Musumeci e adesso ricollegandoci con un'affermazione di Cuffaro che era quella di, nelle proprie liste Musumeci si ritrova ad avere cuffariani e lombardiani, mi pare che siamo... Sì, mi sa che Musumeci ha dimenticato la sua battuta iniziale perché con tutto rispetto alla persona abbiamo sempre avuto in questi anni un rapporto tranquillo perché comunque Nello Musumeci è una persona per bene. Anche se lui dice che alla fine gli elettori filtreranno i candidati, però partire già con dei candidati nelle liste... No, allora sì, sicuramente lui è uno specchietto per l'allodo, insomma come ha definito in questi giorni Giancarlo Cancelleri, così come l'è stato Rosario Crocetta per quelli che stanno dietro di lui, che poi alla fine hanno deciso e imposto assessori, hanno deciso e imposto scelte, poltrone, è stato sempre tirato per la giacchetta e così sarà per Musumeci alle condizioni, con tutto il rispetto però, sembra che le condizioni che si stanno delineando nel caso lui dovesse andare al governo di questa regione sono proprio queste, perché gli elettori fanno da filtro, però se il 90% delle persone è tutto un vecchio regime... Vedete che se ne accorgono gli elettori... È facile parlare male del governo Crocetta, ma il governo di destra, centro-destra, che ha vinto le passate amministrazioni, ha contribuito allo sfacelo della nostra regione, quindi già lo abbiamo visto... Vedete che gli elettori sono meno sproveduti di quello che si crede, stanno attenti alle liste da chi sono formati, questo è quello che è capitato in giro. La sera, mettiamo caso, il successo arriverà, il primo pensiero di l'onorevole Valentina Palmieri nel caso di una riconferma, il primo pensiero a chi andrà? Domande senza preparate, domande che mettono davvero a nudo il candidato, alla sua famiglia, molto attaccata alla famiglia. No, perché visto che è il poco tempo che stiamo dedicando in questo periodo, sicuramente è il primo momento... Alla Sicilia, alla sua famiglia. Ecco, ci abbiamo davvero la parte conclusiva, quella è la telecamera, gli ultimi, stavolta 20 secondi. Perché il 5 novembre scegliere di votare Movimento 5 Stelle e perché il 5 novembre scegliere di votare Valentina Palmieri? Prego. Innanzitutto perché mi auguro che questa regione sia finalmente governata. da persone che hanno un minimo di idea per questa terra, per pianificare un cambiamento reale basato sullo sviluppo reale di questa terra. Mi pare che già... Non voglio dire altro. Sì, perché si è pensato a tutto tranne che allo sviluppo di questa terra. Semplicemente si è puntato a fare assistenzialismo di quello brutto che non ha mai valorizzato nessuno, né questa terra e nemmeno le persone. Ecco, bisogna cambiare assolutamente il modo di intendere... se posso permettermi di concludere questa trasmissione facendomi interprete di parte dei telespettatori. La gente, vedete, cari signori politici, la gente chiede, i siciliani chiedono e chiediamo soltanto una cosa. Normalità. Normalità. Mi fermo qui per questa sera. Ringrazio la squadra tecnica di Video Sicilia, ringrazio i partner commerciali, ringrazio principalmente i nostri telespettatori che davvero impongono fiducia a questa emittente, a questa trasmissione. I partner commerciali, gli ho detto, il mio editore, Girolamo Elios Turano, che mi dà davvero fiducia per arrivare qui davanti alle telecamere e rappresentare la nostra emittente e trattare una pagina molto, ma molto difficile giornalisticamente, quale è la pagina politica. Non essendoci più segretarie, organi gambi, direttivi, ma soltanto gli uomini che stanno trascinando dietro loro il consenso, trattare la pagina politica per un giornalista davvero diventa quotidianamente molto, ma molto difficile. È stata con noi e con voi l'onorevole Valentina Palmeri, parlamentare oscente del Movimento 5 Stelle, nonché ricandidata sempre dal Movimento 5 Stelle. Dimenticavo, accordi con nessuno voi? O voi? No. Con nessuno. Gli accordi? E una prerogativa del vostro Movimento 5 Stelle, o voi o gli altri? Nel momento successivo, nel momento in cui si sarà lì, si valuterà se si potrà fare un patto sui programmi, ma sicuramente non con chi in questi cinque anni ha pensato solo a spartire poltrone come PD, Forza Italia, con loro, con partiti come quelli, non c'è spazio per fare accordi nella maniera più assoluta. Va bene, mi fermo qua. Grazie all'onorevole Valentina Palmeri, da Riccardo Collatello a tutti, augurio di una buona serata. Buonasera onorevole. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti.